Salve gente bentornati in questo video quest'oggi faccio questo video dalla macchina infatti se sentite rumori strani perché sono in macchina per dirvi che ho aperto ragazzi un canale telegram che vi lascio qui in descrizione nel quale potete entrare e ci trovate tutti i ragazzi del team dove possiamo parlare di Yugi eccetera eccetera darò comunicazioni riguardo il canale e altre cose quindi vi aspetto anche sul canale telegram a una prossima prossimo video